Ora sono sul lago di Idro, sto salendo il sentiero di Monte Croce di Perlé. Per andare a vedere una serie di cascate che non sono prosciugate, dovrebbero essere uno spettacolo. Parte del sentiero l'ho già fatto, è il momento di camminare. Anche oggi mi alleno. Ve ne ho fatte vedere di cascate, però una prosciugata non l'avevamo ancora vista. Stavolta abbiamo fallito a tutto secco. Almeno ci divertiamo. Tutto secco. E anche un rigagno d'acqua. Ho paura che la situazione sia veramente grave. Non di cose particolari, ma un tronco curvo mai. Non di cose particolari, ma un rigagno d'acqua. Ho paura che la situa è a un ritual. Grazie.